Uno dei mercati cinematografici più interessanti al mondo è sicuramente l'European Film Market. EFM legato alla Berlinale, il festival cinematografico internazionale che si svolge a Berlino nel mese di febbraio di ogni anno. Le sedi dell'EFM spaziano dal bellissimo Grupius Bau all'elegante Mario Totel, al moderno Berliner Freight e allo storico Zoo Palast. Un'infrastruttura professionale per gli esercenti, sale cinematografiche all'avanguardia, numerose anteprime di mercato e un servizio eccezionale grazie a stretti rapporti con clienti e partner contraddistinguono il mercato cinematografico come una piattaforma commerciale di prima classe. L'EFM è una cinematografica straordinaria per tutti i generi di cinematografia dove per un periodo di otto giorni circa 10.000 rappresentanti dell'industria internazionale del cinema e dei media, principalmente produttori, acquirenti e agenti di vendita, distributori e finanziatori, si riuniscono per fare rete, scambiare informazioni, informarsi e fare affari. Come primo grande mercato cinematografico dell'anno, l'EFM è in una posizione di forza e funge da bussola, barometro e battistrada per il nuovo anno cinematografico. Nuove produzioni e sviluppi, modelli di business a prova di futuro, contatti e contratti, ma è soprattutto un mercato che funziona davvero, dove negli ultimi anni si è anche posizionato come una piattaforma per l'innovazione e il cambiamento. Grazie per la visione!